Comunista intitolato Mantua con Riace, tenutosi venerdì scorso. Sospendere il decreto sicurezza così come hanno fatto i sindaci Leo Luca Orlando di Palermo e Luigi De Magistris di Napoli. La proposta, che è in fase di redazione e che sarà consegnata al sindaco di Mantua, Mattia Palazzi, è scaturita dall'incontro intitolato Mantua con Riace, organizzato da Rifondazione Comunista in collaborazione con la Boie, Ampi e Sinistra Italiana. Dopo gli interventi di Fabrizio Baggi, responsabile politiche migratorie di Rifondazione Comunista Lombardia, Enrico Lancerotto dello sportello di Ritti, la Boie, Luigi Benevelli, presidente provinciale Ampi e Andrea Cantarelli, consigliere comunale di Sinistra Italiana, introdotti da Rita Scappinelli di Rifondazione Comunista di Mantua, è stata presentata l'iniziativa Regala Riace, un progetto che vuole salvare la positiva esperienza di accoglienza e integrazione avvenuta a Riace. e che ha permesso una ripresa dell'economia locale. Un rilancio avvenuto attraverso l'utilizzo di una banconota locale, l'Euro di Riace, poi bloccata dal governo. Il PRC vuole sostenere l'iniziativa comprando nuove banconote al prezzo di 5 euro per l'acquisto. È possibile rivolgersi alla Federazione Provinciale di Rifondazione Comunista. In questi giorni si sta stilando l'appello da consegnare al sindaco Palazzi, affinché l'applicazione del decreto venga sospesa anche a Mantua.